Siamo su Fosso Vallelunga a Pescara, odore naosabondo, vero signora? Solo? Veramente un odore... Non so come fa sta gente ad abitare qua sopra, e c'hanno le cucine. E schiuma, colore, insomma... Roba che esce da acqua. Ed esce, insomma, risaliamo e si vede, esce da uno scarico, e si vede anche il fondo addirittura che è cambiato di colore rispetto al resto, proprio per questo scarico che continua a poche centinaia di metri dal mare. E' una vergogna come abbiamo ridotto e come stiamo riducendo i fiumi e i torrenti della nostra regione.